però stamattina il 7 è furuto credo, non è un numero che è 7 stamattina per andare a signor adesso invece l'hanno fatto morire la signora ha chiamato Covid che è fatta no? invece la stiamo in Italia la signora ha chiamato Covid e è soccoruta io lo soccoruta mi rendete conto? qua ti assistono solo se hai la patologia Covid poi per altre malattie, per altre patologie no, è a morire perché per questi governanti, altre patologie è a morire, solo di Covid l'assistenza, l'emergenza è solo Covid va bene? qua il Covid chi lo soccide non è che non è bene che non ha morto nessun Covid non ha fatto avere un infarto un infarto non ha fatto morire non è bene ti devi vergognare signor De Luca, ti devi vergognare ok? l'emergenza sanitaria la dovevi pensare prima ok? la vuoi pensare adesso? dalle 4 di notte fino alle 9 di mattina l'ambulanza non esisteva la mia zia è morta è morta è morta proprio a te De Luca il Covid va da morire tutte politiche solo interesse 2.000 euro non esisteva non esisteva direi non esisteva molti